Non vedo le ragioni per le quali dovremmo chiedere l'intervento della Troica, anzi ho la sensazione sgradevole che ci sia un uso del tutto improprio di eventuali difficoltà finanziarie per forzare sul quadro politico. Noi non siamo in condizioni tali da dover immaginare in tempi peraltro brevi, come ipotizzano alcuni, l'intervento della Troica. No, tra l'altro sarebbe in netta contraddizione con quello che è stato detto fino all'altro giorno relativamente ad un andamento dalla nostra economia diverso da quello dei mesi passati. La crisi non è finita, non è vero che siamo fuori dal momento di difficoltà che abbiamo incontrato, la recessione c'è ancora, gli effetti sociali ed economici si vedono e però è un quadro che si può affrontare cercando nel contempo la stabilità politica, non usando queste difficoltà che sono state negate fino all'altro giorno come condizionamento del quadro politico.